Ciao sono Simone e ti do il benvenuto in questo nuovo appuntamento in cui parleremo di Denis Dayeux, uno dei fotografi contemporanei più influenti e apprezzati sicuramente della nostra epoca, conosciuto per il suo straordinario talento nel catturare l'essenza e l'umanità dei suoi soggetti. Attraverso le sue immagini poetiche e ricche di emozioni Dayeux ha portato a luce le storie e i volti dell'Egitto e dell'Africa con una sensibilità e una profondità veramente unica. Ma prima di approfondire la conoscenza di questo grande artista permettimi solo di ricordarti di iscriverti al canale e attivare la campanella per non perdere i prossimi aggiornamenti. Denis Dayeux è un fotografo francese nato nel 1958 ha iniziato a interessarsi alla fotografia sin da giovane ma ha iniziato a concentrarsi seriamente su di essa solo negli anni 80, iniziando principalmente come fotografo di moda per alcuni anni ma poi ha deciso di dedicarsi alla fotografia documentaria e a quella ritratistica. Dei generi fotografici che gli hanno permesso di vincere nel 1992 e nel 1994 il famoso concorso fotografico Wordpress Photo. Esistono alcuni fotografi cui i nomi saranno per sempre sinonimo di un luogo particolare mi viene per esempio in mente Robert Duenois per Parigi ed è il caso anche per Denis Dayeux per quanto riguarda invece l'Egitto. Questo fotografo è infatti indossolubilmente legato a questa nazione ha visitato il Cairo per la prima volta nel 1992 per amore e a 34 anni era la prima volta che lasciava l'Europa e subito si innamorò di questo paese rapito dalla sua seducente bellezza e dal colore e generosità del proprio egiziano. In Egitto ha quindi vissuto per diversi anni e ha sviluppato come da lui stesso raccontato più volte un profondo legame emotivo con il paese e con le sue persone. Attraverso le sue serie fotografiche dedicate all'Egitto esplora quindi la vita quotidiana, le tradizioni e le sfumature emotive della cultura egiziana. Dayeux cattura così l'intimità delle relazioni umani, i momenti di gioia, di dolore e le profonde connessioni con il passato storico del paese, testimoniando ancora una volta la sua grande sensibilità fotografica. Denis Dayeux ha realizzato diversi progetti fotografici nel corso della sua vita, oltre a quelli dedicati appunto all'Egitto. Uno di quelli che apprezzano maggiormente di questo artista è intitolato Modern Son, sempre realizzato in Egitto e questo progetto fotografico si concentra, come puoi immaginare anche dal nome, dal legame unico che si crea tra la madre e il figlio, esplorando quindi la complessità delle relazioni familiari e le emozioni che lo accompagnano. Le fotografie di questa serie sono caratterizzate da un'intimità straordinaria e da una sensibilità emotiva che trasmette il profondo legame tra i soggetti. Infatti Dayeux ha catturato il legame tra madre e figlio rivelando la vera essenza dei suoi soggetti e sovvertendo gli stereotopi per presentare un ritratto autentico e significativo delle famiglie del Cairo. La cosa molto particolare di questo progetto fotografico sono i soggetti scelti, infatti ha cercato culturisti e le loro madri da fotografare in modo veramente non convenzionale, contraponendo così le forme muscolari e giovanile dei figli a confronto con la morbidezza delle loro madri velate e ovviamente invecchiate. In questo modo conferisce un significato diverso l'idea di forza, dove di solito la forma erculea di un culturista sarebbe al centro dell'attenzione, qui invece sono le madri e il rapporto tra madre e figlio al centro dell'attenzione. Questa serie è infatti molto dolce, le mani si intrecciano, si danno baci sulla fronte, così la tenerezza del tocco maschile bilancia la dominanza della loro apparenza fisica. Un altro progetto molto famoso di questo artista è intitolato Ghana, infatti la ricerca di nuovi orizzonti creativi, è stato anche un visitatore regolare del Ghana dal 2009, dove ha documentato la vita quotidiana e le tradizioni del popolo ghanese attraverso ovviamente le sue immagini, esplorando quindi la ricchezza culturale e la diversità del paese e catturando scene di vita di strada, rituali tradizionali e momenti di gioia e di festa. Le sue fotografie, come sempre, sono caratterizzate da una profonda sensibilità verso i suoi soggetti e da un'attenzione particolare ai dettagli e alle emozioni umane. Attraverso il suo lavoro, Dario cerca così di raccontare storie significative e di dare voce alle persone e alle comunità che fotografa. I pescatori del porto di Jamestown sono diventati uno dei suoi soggetti preferiti appunto di questa serie, perché questa comunità secondo lo stesso Dario è una fonte di immagini potenti, paesaggi marini con cieli mutevoli, i pescatori, la vita delle donne e dei bambini che lavorano sul porto, quindi veramente scene molto particolari, di una serie che esplora nuove relazioni con il corpo, lo spazio, la vita, la morte, la religione e il mare e che rinnovano così la sua fotografia. Un'altra serie molto famosa di questo artista che è nata quasi per caso, intitolata per Saint Beaumont, è nata negli anni 80 mentre Dario viaggiava su un treno dove incontrò un gruppo di ragazzi appunto di Per Saint Beaumont. Inclusito da questi ragazzi e dalla loro storia, che erano ragazzi principalmente francesi di origine nordafricana, Dario si autoinvitò nella loro città con l'intento appunto di fotografarli, ma ben presto si accorge che i veri soggetti di questo progetto fotografico non saranno questi ragazzi che sono poco spontanei diciamo davanti alla macchina da posa, ma saranno appunto i fratellini e le sorelline di questi ragazzi, la cui naturalezza che sfuggiva agli stereotopi caterò appunto l'artista e così nacquero questi delicati ritratti. Un progetto che durò per cinque anni, una domenica al mese, infatti Denis Dario viaggiava per Saint Beaumont per inquadrare questi piccoli che crescevano in una città con prospettive limitate e in condizioni veramente svantaggiate. Queste fotografie in bianco e nero ovviamente evidenziano il legame tra il fotografo e i suoi modelli. Adesso prima di concludere parliamo brevemente dello stile fotografico di questo artista, che è caratterizzato da uno stile molto distintivo visto che mescola elementi di ritratto, documentario e siti fotografi. Dario infatti è maestro nel catturare le essenza emotiva dei suoi soggetti, come abbiamo detto a più riprese, le sue fotografie sono spesso caratterizzate da una profonda connessione emotiva che traspare attraverso lo sguardo dei suoi soggetti e nei dettagli delle loro espressioni. Inoltre questo artista utilizza la luce in modo magistrale per creare atmosfere suggestive e drammatiche nelle sue immagini, spesso gioca con le ombre e i contrasti per raggiungere profondità e dimensioni alle sue fotografie, creando così un'unteriore sensazione di mistero e facino. Le sue composizioni sono estremamente equilibrate e molto armoniose, la disposizione dei soggetti e degli elementi nella cornice è ovviamente attentamente considerata, guidando lo sguardo dello spettatore attraverso la scena in modo naturale e molto coinvolgente. Questo perché l'artista fa sta grande attenzione ai dettagli, che sono spesso ricchi di significato e simbolismo nelle sue fotografie, anche dei tagli più piccoli contribuiscono così a raccontare una storia o trasmettere un'emozione, arricchendo così la narrazione visiva delle sue immagini. Anche in colori giocano una parte importante nella comunicazione di queste immagini che sono i colori spesso saturi e vibranti e contribuiscono così a creare atmosfere ricche di vita e di emozione. La sua scelta cromatica riflette inoltre spesso l'ambiente e il contesto dei suoi soggetti, aggiungendo un ulteriore livello di profondità e significato alle sue immagini. Inoltre il lavoro di aureo è fortemente influenzato dall'umanesimo, visto che cerca di evidenziare la dignità e l'umanità dei suoi soggetti indipendentemente dal loro contesto sociale o economico. Questo approccio si traduce in fotografie che sono empatiche e rispettose mettendo in risalto la bellezza e la composità delle persone che fotografa. Persone che cerca di catturare i momenti autentici e sinceri, evita quindi l'adificio e la manipolazione e cerca piuttosto di cogliere la spontaneità e l'essenza dei suoi soggetti. Adesso prima di concludere come sempre ecco alcune frasi di questo grande artista. Non ho mai visto niente di bello come le live del Nilo tra Luxor e Aswan. Ho avuto la possibilità di scolpire un Egitto che non era ancora entrato nella globalizzazione, dove i rapporti erano generalmente semplici e dove, pur essendo straniero, sono stato accolto senza pregiudizi. Sono rimasto affascinato da queste scene, potenti quanto quelle trovate in certi dipinti e anche dalle luci abbaglianti del mare che a volte trasformano gli uomini in silhouette. Amavo la bella luminità libera dei corpi ghanesi. Per un fotografo questi corpi sono un dono. Come al solito spero che questo video ti sia piaciuto, nel caso lascia un bel like e non dimenticarti che se vuoi supportare il canale da oggi ho attivato anche la funzionalità di abbonarsi con alcuni simpatici vantaggi che ti invito ad approfondire. Ci vediamo nei prossimi appuntamenti.